Criticità nella provincia di Reggio, nei comuni di Archie e Gallico, nella provincia di Vibo Valencia, la zona interessata da un vasto incendio, il comune di Filogaso, dove sono intervenuti diversi mezzi aerei, nonché elicotteri, della flotta aerea regionale. Al momento sono in corso circa 31 interventi, equamente distribuiti per provincia. Criticità ancora in atto nelle province di Reggio Calabria, Vibo Valencia e Cosenza. Nella provincia di Catanzaro, la squadra dei Vigili del Fuoco è impegnata per un vasto incendio di arbusti e macchia mediterranea, sviluppatosi nel comune di Simi di Cricchi, in zona impervia, ma in prossimità di Olivetti e Due Casolari, sul posto a coordinare le operazioni di spegnimento, sia della squadra di terra che del mezzo aereo, il dosso dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro. Nel Crotonese, in località Brasimato, tra i comuni di Crotone e Roccadinetto, un vasto incendio di arbusti e macchia mediterranea e zona abboscata. Sul posto, impegnate la squadra dei Vigili del Fuoco, sede centrale, e la squadra del distaccamento di Petiglia Policastro, a coordinare l'attività di soccorso del mezzo aereo Nuvola Rossa, il direttore per le operazioni di spegnimento del comando Vigili del Fuoco di Crotone. Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Crotone, impegnati in località Passo Vecchio per un incendio di vegetazione sviluppatosi in prossimità di una ditta, adibita alla lavorazione e produzione di erba sintetica, per campi da calcio, tennis, padel e giardini. Il rogo sviluppatosi inizialmente al di fuori della proprietà si è propagato nel piazzale interno della ditta, coinvolgendo residui e scarti della lavorazione. Intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza del capannone e si sta procedendo allo smassamento e spegnimento del materiale interessato dalle fiamme. Non si registrano danni a persone. Sono ancora attivi i 27 interventi di vegetazione in regione. Le zone più critiche con intervento del personale Vigili del Fuoco d'osso e mezzi aerei sono in provincia di Cosenza, Comune di Acri e Saracena. Nella provincia di Crotone, Strongoli e Brasimato. Il fronte di fuoco ha minacciato un canile con oltre 400 animali, messi in sicurezza dai Vigili del Fuoco. Reggio Calabria è la zona di Acri. Al momento l'incendio di Filogaso risulta in bonifica.